Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto interessante, tra virgolette, che non parlerà di build, non parlerà di un gioco. E beh, volevo dirvi prima di tutto grazie per tutti gli iscritti, per tutti coloro che mi sostengono ogni giorno, ogni ora, ogni mese, ogni settimana a far comunque incrementare il tutto nel canale, tra cui qualità, tra cui contenuti, e beh, ovviamente c'è anche del vostro tra sostenermi, farci crescere e diventare possibilmente un pochino più conosciuti. Ma no, oggi non sono qui per, diciamo, fare uno speciale, questa era solo una premessa. Volevo solo dirvi, prima di tutto, cosa importante, che per i prossimi giorni, non so se una settimana o si dilungherà, nel caso vi avviserò, nella tabella community del canale, che vi consiglio anche di andare a vedere, perché lì faccio anche sondaggi, in modo da prendere delle decisioni e avere anche qualche idea. Perché, beh, avrò un piccolo problema medico che forse non mi farà sedere, quindi non potrò giocare neanche, tipo nel tempo libero, facciamo un esempio. Figuratevi fare live e fare video. Spero, in realtà, che un po' possa sedermi, tipo, almeno qualche oretta, giusto per fare almeno i video, che, comunque, ho un bel po' da fare. Ma, per il momento, ripeto, vi lascio con questa notizia, perché non sono sicuro neanche io. Vedrò dopo, vediamo, dopo il giorno di questo video, perché circa dovrò restare un giorno, una cosa del genere, in ospedale, non lo so. Devo vedere, ragazzi, è tutto sconosciuto a me. Ma, chiudendo questa parentesi, non sono qui solo per dire che mancherò una settimana o giù di lì. Ma sì, volevo anche aggiornarvi su live, video e quelle cose là, giusto per informarvi direttamente, perché farlo in un solo post, capitemi, non è proprio comodo. In tutto, vorrò cambiare le live, forse farò durare un pochino le live su Twitch, non so se comincerò, tipo, alle 19 o alle 20 sempre. Lì dovrò determinarlo, ma penso sempre alle 20. E le farò durare almeno tra le 3 e le 4 ore. Questo dipende dalla live, dipende dal contenuto che vi porto, dipende anche come mi sento io, ma... Vabbè, tutte varianti che, comunque, ripeto, vorrò farle durare almeno 3 ore, barra 4. Inoltre, comincerò a pubblicare un piccolo calendario live, in cui saranno segnati i giorni in cui porto la live, sia su Twitch, sia su YouTube, e i giorni liberi. Infatti, su YouTube, penso che diminuirò le live ulteriormente a una, ma perché YouTube non mi frutta molto in live, bensì solo in video. Questo dovete capirlo un secondino, anche perché, se non vengono molto visualizzate, non vale la pena farne troppe. Però con i vari video e tutto il resto, direi che sta andando abbastanza bene, quindi ogni tanto, da una sbircettina al canale, potreste trovare nuovi contenuti. E sto anche pensando di portare qualche serie ai gameplay semplici, e non solo guide, perché voglio anche sapere intrattenere. Detto questo, un altro cambiamento che sempre porterò alle live, sarà forse mettere dei contenuti misti, tipo, facciamo un esempio. Io porto Warframe, o Helldivers, e poi vado a cambiare o un altro gioco, o addirittura un altro contenuto, tipo nel caso delle Reaction, che ho già cominciato a farlo da un po'. Ed in pratica funzionerà che, prima vi porto il contenuto principale, quello diciamo un pochino più importante, e se c'è ancora tempo, passo a un secondo contenuto, forse per portarci avanti, chi lo sa, forse è un gioco in cui dobbiamo farmare, e cose così, diciamo. Certo, voglio portarvi altri nuovi giochi, oltre a Warframe e Helldivers, adesso sì, vi sto anche portando il The Ring, ma perché, come saprete bene, il The Ring già lo portavo in passato. Semplicemente non l'ho più portato perché non c'erano aggiornamenti. Vedrò se portarvi anche The First Ascendant, che non è male come gioco, ancora non ho finito il tutorial, o la storia in generale, difficile da capire all'inizio, ma piano piano ci posso prendere la mano. Ma direi che ho detto tutto, sì, il video forse è corto, ma ripeto, non è un video build, non è un video gameplay, anche se nel sottofondo, ripeto, c'è il gameplay. E non è un video per intrattenere, era un video d'avviso, era un video che, se fossi stato beneficista, non l'avrei neanche fatto, perché sapete bene che io tengo molto ai miei iscritti, tengo molto alle persone che mi seguono, e che mi danno comunque la possibilità di migliorare, di sostenermi, e beh, tutto il resto, solo grazie a voi. Ma io direi che posso terminare quel video, ringrazio per avermi ascoltato, spero di rivedervi molto presto, speriamo che la situazione non mi sia troppo scomoda o grave, perché è un fastidio per me non poter fare video o live, ve lo giuro, anche perché mi piace un sacco farlo già come hobby, ma voglio farlo diventare, come ben saprete, un lavoro. Ma detto questo, direi che non mi rimane che dirvi arrivederci, ci vediamo, forse, tra una settimana, o sempre giù di lì, sperando di star bene il prima possibile. E vi invito a sostenere il canale come meglio potete, iscrivendovi e mettendo like al video, ovviamente per farmi sapere che contenuti vi piacciono e che volete vedere questo canale spiccare il volo, anche perché siamo circa, non proprio troppo vicini, ma circa vicino ai 400 iscritti. E, beh, non vedo l'ora di arrivare per l'appunto al famoso traguardo dei 500. Ma detto questo, ragazzuoli, ci vediamo alla prossima, la smetto di parlare, sto, diciamo, dilungando il discorso più di quanto dovrei. Ci vediamo alla prossima, e noi, Tenno e il Divers e tutti i gamers là fuori, ci rivedremo, forse, in una prossima live o in una prossima build. Ciao!